ragazzi cambio di improvviso di location e di tutto sentate che mi sistemo come mio solito mi devo appoggiare essendo anziana c'è nessuno? mi lascerete sola lo so, vi aspettavate la live dal camper ma non sono in camper c'è qualcuno intanto io gioco con le luci, ciao anzi no, questo non è per le luci ciao Adele, ciao cambio improvviso di location non so se avevi letto il post di oggi ciao Anna, ciao Valeria ciao Vane, ciao tutti, c'è Stefania dovevo essere in camper ma non lo sono allora piano ragazzi, ora comincio a scorrere veloci non riesco più a salutarvi tutti ciao Carla, ciao Valentina, ciao tutti ciao Elena, ciao tutti e il camper niente allora, la questione è questa stasera da mezzanotte la mia regione diventa di nuovo arancione quindi io dovrei essere a casa però per diciamo la norma sarebbe quella di cioè nel senso una regola dice che si può sempre rientrare al domicilio quindi avrei potuto dormire fuori eventualmente però sarei dovuta rientrare subito io come sempre sono partita lo stesso visto che bel camper che ho Adele sono partita lo stesso perché questa cosa qua mi sta sulle balle sono partita lo stesso perché praticamente è quello che c'è Carla nell'ultimo video che ho fatto dei preferiti adesso dopo te lo faccio vedere comunque avrei dovuto comunque passare via la notte come dicevo e tornare subito io speravo sempre che partisse da domenica a mezzanotte invece no invece l'hanno fatta partire subito e basta cioè nel senso parte da stasera per cui insomma aria di casa mia allora l'illuminante è questo qua Carla così se te lo vuoi segnare sempre se l'ho messo via o non l'ho lasciato in giro no ok questo è la palettina di Wet n Wild ready to go questa qua e nella fattispecie io uso sempre questo quasi sempre lui è bellissima ciao Monia ciao a tutti io mi sono praticamente siamo tornati ho mangiato ho anche mollato tutto così infatti sta sbacchiando mio marito così alla bene meglio e poi sono venuta subito di qua perché era tardi grazie ciao ciao come va il vostro sabato sera io vi ripeto sono entrata anche perché allora avevamo anche pensato di fare quello che dovevamo fare stasera cioè io la live eventualmente lui continuava a fare le sue cose con il metal detector io poi sarei saremo partiti tipo verso le 11 e arrivati che ne so verso l'una anche se c'è il coprifuoco comunque si può sempre rientrare al domicilio ma diventava una sfacchinata enorme quindi invece così abbiamo fatto tutto con calma e siamo partiti da uh ciao Diana un bacio anche a te anche se Napoli non l'ho mai vista ciao Titti ciao Bruna ciao a tutti mettete like ciao Monia a te ciao tuo marito Matteo poveretto lo costringe a guardare una notizia attempata con una cazzo di vestaglia vabbè lasciamo stare fai le siville per le tue clienti non so cosa siano le siville lo sai è una roba tipo le carte chiedo eh non lo so praticamente ho scoperto le meraviglie della ciao Lucrezia della tecnologia ho comprato questa nuova ring light che però non funziona adesso quando viene Claudio vedo se riesce a sistemarmela e si è spasso col tuo calma aspettate un attimo che devo vedere se riesco a fare una cosa come sempre io vi abbandono a voi stesse ma che triste che sono questo cosa non va ho comprato questa ring light che ha le orecchie però funziona non funziona ecco adesso funziona beh vediamo vediamo come andrà nelle prossime settimane se no la porto indietro cioè la do indietro ad Amazon ciao Amazon e anzi forse lo faccio perché la cosa non mi gusta ciao allora i tuoi bimbi chiedono un saluto certo Monia dimmi come si chiamano che li saluto subito il saluto deve essere personalizzato ciao Romina vi stavo dicendo che ho scoperto le meraviglie della modernità ho preso questa piccola ring light che è una ring light cioè che si può anche allungare però in realtà sarebbe da tavolo no? per fare tipo le fotografie o fare le stories in Instagram perché io comunque sto sempre al buio no? se no e dentro c'era questo cosa qua questo telecomando io non capivo che cos'era a un certo punto leggo le istruzioni cioè in un strogoto erano scritte allora un bacione a Manuele Martin un bacione mi raccomando fate i bravi con mamma e papà sempre che Mr. Rally vi tiene d'occhio e non capivo che cos'era cos'è cosa non è alla fine c'era da scaricare un'app tra l'altro un'app carinissima che ora non posso dirvi quale sia perché ce l'ho sul telefono non me lo ricordo più come si chiama quindi modifica anche le foto quindi fa quelle so versioni vinte però questa è comoda perché tu metti il telefono lì sopra al al cosino della della ring light e con questa se hai quell'app apri quell'app fai partire la fotocamera poi ti metti in posizioni di ogni genere e fai le foto ciao che divertimento 44 anni confiuti a gennaio sono troppo simpi troppo ciao Monica allora nell'altra live sempre quella in cui avevo questa non l'ultima quella in cui avevo questa maglia questa vestaglia pucciosissima come scrive Patma sì l'amo tantissimo la presi da Primark secondo me tipo tre anni fa c'è anche un vidoli in cui la faccio vedere non l'ho mai più trovate belle così cioè ci sono ma non ci sono mai come dico io e quindi ok una ragazza sotto mi ha scritto del tipo cioè io non ti vorrei offendere però tu non sei più quella di prima ma voi li usate queste cose qua per esempio questi sono quelli per profumare non sanno di niente ma di nulla se ti metti il naso vicino sì se no niente vabbè adesso volevo schiacciare per vedere se faccio qualcosa non faccio niente vedi che si illumina tramite bluetooth lui fa scatto la foto allora siete in 58 ci sono 16 like tutto questo è inaccettabile sono inutili vero cioè ma neanche da bellezza cioè nel senso di suo sarebbe anche carino però senza questo magari cioè visto faccio concorrenza a Maria De Filippi stasera non è la prima volta che faccio concorrenza a Maria De Filippi ovviamente perdendo di brutto guardate io non è che ce l'abbia con Maria De Filippi però non riesco a guardare il suo Alice Forest non ti so dire a Roma dove puoi trovare i profumi della strega del castello però sono sicura che se tu vai sul sito o riesci a trovare una lista di rivenditori o comunque puoi contattare direttamente con una mail lei e te lo può dire perché non so bene dove cioè nel senso so che qualche profumeria li tiene non sono molte in Italia però di preciso Roma non lo so ma non so nemmeno le altre ecco e puoi comunque chiedere a lei magari ti sa dire mandi una mail sicuramente ti risponde oppure sul sito direttamente può essere ci sia una lista di rivenditori di solito nei siti ci sono quindi insomma andate a vedere a controllare allora ragazzi ci vogliamo cicciare intanto sono 66 persone e 24 like tutto questo non deve avvenire nel senso che dovete mettere like o dislike tanto per gradire dunque io vi vedo anche piuttosto eccitate per la live che vi ho promesso con Roberto mi viene sempre da dire adesso se lui mi sente mi odierà per tutta la vita mi viene da dire l'angolo di Roberto ve lo ricordate il baffo facevo una trasmissione che si chiamava l'angolo di Roberto in cui vendeva cose quello che gli mancava il respiro no quello lì invece Roberto è dintorni comunque questa famosa live noi non è che non la facciamo perché siamo due cazzoni no noi non la facciamo perché intanto dobbiamo trovare ciao dobbiamo trovare il giorno adatto no perché comunque lui fa un tipo di lavoro per cui è impegnato anche in turni e cose simili quindi insomma dobbiamo giustamente trovare una sera e così ah sì mi è sempre stato molto simpatico poi non so come sia dal vivo nella vita vera però lui è sempre stato simpatico comunque e poi cosa più importante e sinceramente molto meno interessante di quella che vi ho appena detto il problema è che non riusciamo a capire come si fanno le live in due cioè io non penso che si possano fare su youtube cioè nel senso si fanno su youtube bisogna usare un programma a parte quindi sto cercando di vedere tutti quanti i programmi mi chiedono soldi cioè non so perché voglio che io mi abboni a cose strane già mi arrivano mail inquietanti io già ci ho fatto un video su questa cosa non vorrei abbonarmi è una cosa di un certo tipo quindi qualche giorno ma comunque presumibilmente la prossima settimana so che lui lavora di mattina e quindi me lo potrò accaparrare una sera e ve lo donerò ovviamente voglio soldi in cambio ma ve lo donerò volentieri no più che altro se avete delle domande sui profumi sulle cose sapete che lui comunque è appassionato di profumeria non di nicchia di nicchia della nicchia cioè lui è una persona che non è che gli piacciono i profumi di nicchia gli piacciono i profumi proprio di nicchia della nicchia della nicchia della super marate che carina la mia piantina storta morta e quindi insomma se avete delle cose da chiedergli dunque vogliamo però parlare vogliamo cicciuare di questa cosa qua che allora intanto vi domando tutto scusa perché sarò come Roberto stasera cioè col fiatone come l'angolo il baffo potete chiamarmi la baffa perché sono venuta a casa ci siamo fermati con il camper a prendere il sushi e poi ho mangiato il sushi sono direttamente venuta qui cioè mi sono levata la maglia che comunque devo farmi la doccia dopo e sono venuta qua per fare la live con voi quindi vogliamo cicciuare con questi profumi perché ragazzi ne ho per tutti i colori oggi sono buffissima grazie questo lo vogliamo prendere con un complimento vero allora ragazzi Marco da Venezia ha un nome inquietante al mio avviso questo lo devo premettere senza come io ho conosciuto questo brand me lo ha fatto conoscere cioè me ne ha parlato senza farmelo conoscere però mi ha detto sai parlando così di profumi parlando di nicchia di profumi comunque non conosciutissimi e questi sono profumi che io non ho mai visto da nessuno qua su youtube almeno digitando il nome su youtube non mi è venuta fuori nemmeno grazie grazie una recensione su questi profumi sono profumi che si possono trovare nelle erboristerie parafarmacie ed è un brand che mi ha consigliato la mia amica Deborah del canale la comoda melissa e qualcuno se lo ricorda ora su instagram lei si chiama patatrack con diverse k e Deborah mi parlò di questo brand dicendo guarda che fa dei profumi molto carini se ti capita con questo marco da venezia che ha un nome veramente così cioè che non lo so io non mi sarei chiamata così ecco se ho deciso di fare un brand di profumeria ma questa è un'opinione personale io ho avuto a che fare non precisamente con lui ma con i suoi collaboratori perché noi abbiamo avviato una collaborazione però adesso ci tengo a dire questa cosa perché sì Valeria spero tantissimo sempre che lei torni a fare video oramai è una speranza forse un po' vana però non si sa mai che un giorno si sveglia e dice voglio girare un altro video e avevamo avviato questo scambio di mail in cui era anche piuttosto diciamo entusiasta mi ha chiesto mi ha mandato la brochure che è esattamente quella che vi farò vedere io adesso però via pdf poi praticamente mi ha chiesto indirizzo numero di telefono di scegliere dei profumi e poi è scomparso nel nulla cioè io li ho anche scritto perché a un certo punto io poi mi impunto non è tanto per i profumi in sé che non costano molto quindi ve li posso comprare pure da sola come ho fatto oggi per questo che ci tengo a precisarvi hai preso cosa hai preso Teresa Diara di Sicilia e quindi insomma mi hanno detto che erano molto impegnati qualche mese fa causa covid perché si erano messi a produrre gel igienizzante ora io ho chiesto delucidazioni ultimamente perché ripeto io non è che dia il mio indirizzo a Chiara certo che te lo mando un saluto ti mando un bacione anche la mia amica Chiara che mi scrive anche sempre su Instagram quindi ecco cominciamo perché insomma io non è che dia il mio indirizzo il mio numero di telefono così a caso alla gente anche perché mi è successo un episodio piuttosto spiacevole la scorsa settimana io non ve ne ho parlato non so nemmeno se ve ne parlerò ma perlomeno non stasera in questa live appunto parlando di indirizzi una cosa molto spiacevole che non non voglio dirvi almeno per il momento però insomma vi voglio parlare di questa cosa tengo a specificarlo perché non è che io adesso vi faccio vedere delle cose che mi sono state inviate ma me ne sono comprate con i miei soldini e potrebbe succedere però che in futuro avvenisse che questo si sveglia dice no ci sono ancora sono vivo non tieni ecco allora questa è la brochure di Marco da Venezia più piccola non la poteva fare nella maniera più assoluta perché alla fine così è molto comoda non è una battuta lo dico sul serio qui parla di Venezia che nel XIV secolo era una potenza marinara ed economica la sua flotta mercantile attraversa il mondo i commercianti veneziani gareggiano nell'assoldare i migliori capitani gli equipaggi eccetera eccetera insomma non vi sto a leggere tutto su quei moli attendeva l'arrivo dei bastimenti Marco da Venezia nella sua officina speciale di fragranze uniche inimitabili praticamente questo Marco da Venezia è un profumiere che ha girato un po' il mondo ma comunque ha preso essenze da tutto il mondo e da queste essenze ha creato questi vari profumi i profumi li possiamo trovare qui dentro cioè che sono comunque profumi qui sono categorizzati da donna da uomo e unisex io direi che queste categorizzazioni cioè insomma possiamo anche evitarle qui ci sono vedete tutte le note il nome del profumo in alto diciamo una sorta di spiegazione molto veloce e poi proprio le note di 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 sì va bene ciao di apertura cuore e base comunque qui abbiamo anche una parte di diffusori per la casa ecco qui Marco da Venezia mercante profumire nei suoi innumerevoli viaggi intorno al mondo ha portato in patria l'essenza da ogni luogo ricreando con i suoi profumi il fascino e il mistero della vita questo mi piace molto questa cosa del fascino e del mistero della vita intanto andiamo a vedere questi profumi che sono veramente strani e particolari io oggi ho trovato questa profumeria bio profumeria parafarmacia erboristeria credo fosse parafarmacia ed erboristeria ovviamente ho sbagliato sacchetto ciao ragazzi ciao ragazze top ciao Chiara Alessandro e dovete comunque guardare su internet perché sul sito io non allora il sito c'è proprio un sito che si chiama Marco da Venezia io non ho .ito.com una cosa del genere non sono però riuscita a capire se si riesca a comprare o meno perché c'è il carrello però non c'è mai acquista nelle fragranze quindi bene o male è vero oppure sì oppure quando c'è qualcuno che deve partecipare a un quiz ecco voi Marco da Venezia ora non per sminuire ciao Alex eh sì come sempre non per sminuire la cosa perché realmente ah il kit benissimo benissimo ti sono piaciuti mi fa piacere perché è veramente quello è un brand proprio da non lasciarsi sfuggire perché comunque i profumi non hanno neanche dei prezzi così eccessivi e sono molto duraturi tra l'altro dunque ho trovato questa profumeria vicino a Ravenna dove io ero al mare quindi ho detto mamma amore andiamo e mi ha portato stamattina quindi io ho preso tre dei suoi profumi io ve li faccio vedere allora questi profumi solitamente io li ho visti tutti intorno ai 29-30 euro questa profumeria che si chiama ora non me lo ricordo più ciao allora comunque se scrivete Marco da Venezia vi sbuca fuori si chiama qualcosa tipo frate e qualcosa perché comunque non c'è nel nel nella come si dice qui sopra non c'è scritto e non c'è nemmeno lo scontrino qui dentro quindi mi dispiace un sacco frate boh cercate Marco da Venezia vi escono fuori un sacco di siti dove le vendono c'è anche un sito sono venduti a 26 euro quindi sono un pochino meno costosi il mio marito no no il mio marito è un angelo sì ma io e mio marito siamo molto d'accordo io non lo torturo lo lascio in pace con le sue cose di metal detector cose del genere lui a seconda me no cioè quindi siamo d'accordo queste sono le confezioni dei suoi profumi molto molto particolari non è frate indovino però non lo so cercate ragazze googlate Marco da Venezia andate giù dopo il suo sito e frate vento brava Gemma tu sei proprio bravissima comunque queste sono le confezioni dei profumi di Marco da Venezia quindi sono queste piramidi non so se abbia un significato particolare non so voglia richiamare qualcosa boh non lo so a livello energetico so che le piramidi questo tipo di di forma ha dei significati particolari e sono veramente belle però il cartone è anche un cartone molto spesso quindi non è un cartoncino di quelli che si rompe questo in particolare è Zanzibar come vedete e si aprono da questo lato le confezioni cioè hanno questi due lati che si aprono così proprio così chiara e poi vedete l'apertura è fatta così cioè sono strani ora mi cadrà lo sento vedete c'è questa raffigurazione di Venezia proprio e poi si aprono così e dentro c'è il profumo cioè secondo me è anche molto bello da regalare questo profumo qui allora questo dopo poi vabbè i packaging primari sono così ecco vedete c'è il prezzo che era 29 e lì comunque era scontato a 25 sono tutti 50 ml quindi parliamo di 50 ml parliamo di profumi che non sono totalmente low cost nel senso che costano 10 euro però insomma secondo me siamo sui prezzi simili erbolario però secondo me siamo un gradino sopra questo è Zanzibar questa vi dicevo è la confezione abbastanza normale principale adesso io vi leggo qualcosa di Zanzibar perché qui sopra c'è scritto tutto non ci riesco ma a me ve lo dici Monica non so se avete visto cioè come vivo io con quel coso di pieno allora Zanzibar come vedete ci sono come vi dicevo prima i profumi e poi sotto c'è tipo una breve spiegazione qui dice Zanzibar vaniglia e orchidea lo definisce e poi si spinge oltre e parla delle note in apertura abbiamo cocco e ananas nel cuore c'è orchidea rosa e giglio mentre nel fondo c'è vaniglia eliotropio e muschio sostanzialmente che cos'è Zanzibar è una bellissima vaniglia ma veramente bellissima io mi sono innamorata subitissimo perché comunque lei non aveva tutte 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 le referenze perché sono veramente tante è una vaniglia proprio molto cremosa una vaniglia ciao Antonella molto molto orientale secondo me e secondo me la nota di cocco e di ananas io non le sento proprio non le percepisco proprio singolarmente cioè in apertura ma nemmeno dopo cioè non è che sento ananas o sento cocco per fortuna perché preferisco l'ananas al cocco allora dopo vi parlo anche della persistenza anche se come si dice un leggero sentore fruttato si sente ciao amore grazie che tenero ah bene bene ogni tanto mi parte Siri non si fa mica i fatti suoi l'hai regalato dopo averlo visto un video di parfumaniac l'ho già sentita nominare sicuramente l'ho già vista ma non ho visto i suoi video che parlavano di questi profumi e è buonissimo quindi se parfumaniac ve l'ha consigliato ve l'ha consigliato a dovere ciao cuba libre a varillis un bacio perché è una parte fruttata si sente leggermente però io sento più che altro una vaniglia molto orientale molto ed è una vaniglia stranissima che via via che si fa comunque un pochino avanti con la piramide diventa sempre più cremosa sempre più dolce nonostante poi nel cuore sia fiorito perché c'è orchidea giglio e rosa si sente forse leggermente l'orchidea però poi diventa dolcissimo diventa dolcissimo perché c'è la vaniglia l'eliotropio che lo fa diventare leggermente con le vaniglie che sono un po' bambolose che sanno un pochino di bambola è un profumo veramente carino ma più che altro io ovviamente non ho sentito tutti i profumi del mondo non sono tenutaria di tutti i settori del mondo purtroppo però ne ho sentiti tanti vaniglie tantissime ragazzi 92 mettete like per cortesia o dislike mettete voi però soprattutto è particolare una cosa non sentita mi chiedevate della persistenza ciao Claudia la persistenza è buonissima perché io vi dicevo sono profumi venduti appunto nelle parafarmacie erboristerie eccetera eccetera mi vedi in ritardo tutti mi vedete in ritardo nel senso che arrivo in ritardo con la voce ditemi se mi vedete bene ciao chiara grazie ditemi se mi vedete bene se mi vedete giusta o sono in ritardo per essere comunque venduti in sono in asincrono ancora adesso ma è stato quella sì rimaledetta mi vedete se mi vedete bene o mi vedete in ritardo non voglio che mi vedete in ritardo mi vedete subito adesso meglio speriamo forse sono problemi un po' di linea ogni tanto sì mi stavo dicendo che ha una buonissima persistenza per essere un profumo di erboristeria perché io l'ho indossato stamattina su pelle lì proprio in negozio quindi potevano essere dieci e mezza contate che abbiamo mangiato verso l'una e mezza io ho lavato i piatti tutto ma le tre io l'avevo ancora addosso qua sul polso cioè in questo lato della mano come si dice il palmo è questo questo è il dorso il dorso della mano lo avevo ancora quindi insomma però non sono profumi da una proiezione esagerata cioè nel senso in particolare alcuni di più alcuni di meno questo diciamo che è una via di mezzo però non ha una proiezione enorme cioè non si sente non è una scia esagerata ecco però la persistenza c'è ecco ottimo ottimo veramente tra l'altro ragazzi veramente le confezioni sono troppo carine cioè perché veramente c'è l'alloggiamento per il profumo e sono veramente carine adesso vi parlo velocemente anche degli altri perché sennò famo notte come sempre tanto poi ve li farò vedere in altri video di sicuro e vi romperò le balle fino a tutta la vita ho poi perso a testa ovviamente per viola del pensiero che è questo qui io ho una passione per la violetta lo sapete tesoro io l'ho preso da ho già dimenticato il frate è un'erboristeria para farmacia di punta marina di Ravenna che vende anche online costano 29 euro ma sono 26 in quella profumeria bio profumeria insomma e li trovi anche online comunque e vi dicevo viola del pensiero eccolo qui allora per un primo appuntamento in pacma questo sarebbe perfetto per me allora per come sono fatta io e per la mia personalità però diciamo ciao Fabio questo promette male parti malissimo cos'hai tanto da ridere ridi pure caro perché è meglio ridere che piangere e dipende però per un primo appuntamento ovviamente bisogna credo indossare un profumo che rappresenti noi stesse quindi insomma consigliartelo io mi sembra che non sia giusto però ovviamente un profumo che rappresenti te stessa ma che non sia un profumo che dà uno schiaffo in faccia o che dia troppo fastidio perché ricordatevi che a non tutte piacciono i profumi non a tutti piacciono i profumi ad esempio mio padre li odiava quindi se mia mamma al primo appuntamento credo avesse indossato un profumone di quelli tipo aromatiche l'isir come usava lei forse non l'avrebbe neanche più portata a mangiare una pizza quindi viola del pensiero che adesso leggiamo insieme viola del pensiero wild violet quindi violetta selvatica ha anice e pesca in testa violetta e iris in cuore vetive benzoino e degliotropio nella base dunque io sapete la mia passione per iris violetta tutto quello che può sapere anche questo uguale vedete c'è venezia proprio qui poi si apre il profumo e si rivela proprio il profumo per il basso questo questo qua così eccolo qua e terribile questa cosa quando apre i profumi nuovi a volte questo ce lo spruzziamo qui questo vabbè è una violetta più o meno classica nel senso che io sento tanta violetta ma anche tanta eh titti se vuoi un profumo resistente persistente devi buttarti su o i torti sotto vuoto o ma veramente persistente o eh ma anche i montal andando più sul sempliciotto oppure anche sui profumi un roma i profumi un roma non sbagliano mai questo è un profumo di violetta iris sa tipo di rossetto no di pasta di rossetto però è molto carino perché secondo me a un certo punto ha questa violetta che diventa delicata perché a volte la violetta è un profumo che è molto rappresentativo secondo me c'è un profumo che è una nota che nei profumi vuole dire qualcosa secondo me la violetta è molto molto civettuola un profumo che se indossato appunto come dicevamo in un primo appuntamento potrebbe voler dire appunto non intenzioni di un certo tipo però vuole mostrare femminilità no? secondo me ecco questa violetta qui è molto molto civettuola ed è anche talcata secondo me ha proprio un un che di talcato di pulito a un certo punto proprio però grazie a Nalisa talcato proprio pudre cioè non saprei come dire ci sono tanti tipi di violetta questa ha un'apertura un po' più secca no? poi si ammorbidisce subito secondo me grazie a l'iris mi ha fatto proprio morire questo profumo perché io amo amo tantissimo la nota di violetta mi è sempre piaciuta insieme a quella dell'iris e questo poi diventa dolce diventa bello diventa delicato grazie all'eliotrope che comunque è questo fiore il fiore un fiore dolce che profuma di vaniglia praticamente veramente questo deliziosissimo super femminile però quelle donne assolutamente non una donna moderna assolutamente una donna comunque mi viene sempre da dire la stessa parola no? oramai secondo me se mi facessero un meme un'imitazione io sarei quella che parla delle donne d'altri tempi dupalle veramente però questo è proprio un profumo così c'è un profumo che rappresenta proprio così sì ci sono molti profumi orientali fruttati se vai comunque direttamente sul sito di Marco da Venezia trovi tutti i profumi con le spiegazioni poi magari te lo cerchi in giro perché ripeto io non sono riuscita a capire come si compra da quel sito quindi loro sono un ucciel di bosco perciò comprarli in una parafarmacia barra ervoristeria mi sembra l'unica soluzione possibile per sopravvivere dunque io volevo finirla qui ma non era finita qui perché vabbè ripeto non avevano tutti i profumi che volevo sentire perché ne volevo sentire tanti c'era cortigiana allora mi avevi chiesto un profumo che aveva aspetta un attimo che io ho del pensiero qui c'è anice e pesca perché sì che aveva quel sentore che dicevamo prima però non riesco a trovarlo però oggi l'avevo sentito anche questo deve essere l'antico venece ne sono moltissimi di quelli che secondo me erano perfetti la mirra era buonissima però era finita cos'è successo qua ah ecco hai guardato già lo stavo dicendo se c'era Roberto cortigiana è burrodiris è zibetto cosa che buzza un po' bergamotto e frutti rossi mughetto violetta e rosa muschio bianco legni dolci però mirra che c'era il tester ma non c'era il profumo agrumi prugne di damasco lavanda mirra incenso vaniglia muschio bianco buonissimo sono sparita il cortigiano mi vedete no non era sola Roby Valeria ha lo stesso problema che dicevo prima dobbiamo capire come si fanno le live in due non so se mi sono spiegata comunque ci sono quasi ma voi mi vedete me ne sono sparita comunque non potendo resistere oltre ho comprato anche la regina di cipro sì la regina di cipro ecco qua quella che mi chiedeva prima un profumo orientale e comunque fruttato è cedro mandarino bergamotto nel cuore mango frutto della passione muschio bianco e cucumarina nel fondo ti vedo ti sento anche qui stesso discorso di questa apertura un po' così non so se sia Marco da Venezia un illuminato che faccia queste cose allora questo non avrebbe dovuto venire a casa con me invece c'è venuto perché su Mouillette buono ma non mi aveva convinto invece addosso ma poi proprio carine queste bottigliette proprio carine secondo me la faccia della regina lì in sottofondo chiedere a Mirko sto chiedendo a Chris Cristina Cristina o Cristiana non mi ricordo mai se si chiama penso Cristiana mi ha mandato la sua mail adesso le devo rispondere si lascia stare quel profumo che sa di pipì di Roberto perché non di pipì allora fermi tutti non sa di pipì sa di pipì sulla mutanda che sta lì da un po' di un uomo questa è stata la sua descrizione di oggi cioè io stavo cucinando e ho detto ma perché io dovrei portare un profumo che sa di pipì adorabile questo è buonissimo mio marito che tira lo sciacquone a proposito non ci sono parole no sta facendo una donna ha tirato lo sciacquone sì questo è buonissimo molto femminile molto verde in apertura perché sento tanti se lasciamo stare io sento tantissimo questo sentore di mango però lo sento verde non lo sento dolcissimo e si sente tantissimo e poi diventa super 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 sì sì super femminile perché secondo me questi frutti ma la gatta nera non lo so se apprezzerebbe non so se arriva fin lì però vabbè ormai va spiattato di tutto la gatta nera avrebbe apprezzato anche lei la cortigiana credo questo si sente proprio tantissimo questo mango mango verde non so come dire poi diventa un po' più pulito perché c'è questo muschio questo è molto particolare faccio fatica a descrivervelo a dire la verità perché cioè probabilmente non queste note come succede tante volte queste note nominate così non rendono quello che sa il profumo quindi io vi posso dire per un quarto d'ora che sa di mango ma non sa di mango si sente il mango ma inizialmente è verde poi si addolcisce poi diventa quasi un ambrato cioè come un fruttato ambrato ecco come un fruttato caldo orientale ecco come mi diceva la ragazza prima quindi questo potrebbe piacerti bene mi vedete mi cade tutto il mango per cuba libre va bene quindi io sono uscita con questi tre per cui grazie Sara tu hai regina di cipro vedi sono buonissimi questo ragazzi credo che quello la viola del pensiero sia il mio preferito perché davvero è un sensuale meraviglioso per me proprio meravigliosissimo poi ragazzi non è finita qua poteva finire così il mio weekend no vai via un attimo in mano in profumi ce n'è uno che è la foglia di banano no però se vuoi ci sono tante fave tonca gradisci lo stesso vuoi solo la foglia di banano per capirci ce n'è uno che però andrebbe bene per la francesca resine e miele cipresso iris bacche di ginepro mirra pacciulli incenso miele cuoio e ambra grigia no ragazzi sono veramente guarda qua Roberto ci siamo questo con l'elefantuzzo abbiamo proboscide e poi abbiamo anice e fava tonca va bene foglie di banano oppure possiamo avere mio marito è cascato nella doccia credo bene bene chiedo per un'amica non vorrei mai che morisse potremmo avere vediamo ud dello yemen no vabbè come sto io io ora non voglio bestemmiare non è una bestemmia però qui c'è scritto muschio del tonchino io avevo letto ho poponax in testa poi c'è scritto cisto nel cuore io ho letto cristo hanno messo cristo in un profumo ci siamo secondo me io mi devo far curare ce lo sto già facendo però evidentemente non no valeria non l'ho sentita la se se mi capiterò la sentirò volentieri anche se io non amo la tuberosa per niente cioè per niente molto difficilmente deve essere molto una tuberosa che si sente proprio poco perché dove è protagonista tuberosa no questo è troppo buono adesso è verde è paradisiaco è come un cocktail di frutta però con dentro anche qualche foglia di qualcosa di verde no poi c'è comunque un buon non so buonissimo buonissimo non ancora sentita comunque vi stavo raccontando prima i cavoli miei cioè nel senso quando mi sono diciamo giustificata per non essere veramente dove dovevo essere dolce acque pacciulli per sera profumo Roma affordable and selective fragrances only ottime scelte vi ho raccontato perché non sono in camper tu sapessi cosa ho imparato con il mango paparillis cosa ho imparato con il mango per carità di dio che qui fra pava tonka mango foglie di banano cristoli lasciamo stare e mi stavo dicendo comunque mi stavo raccontando del perché io non sono più in camper comunque nel tornare indietro dovevo comunque ripassare da Ravenna e ho detto a mio marito senti amore mio tesoro caro ti amo tantissimo che se si mangia poi ci sono certi effetti quello è amarillis vabbè lasciamo stare che qui finisce sempre in o finisce o a schifo cioè a rutti e cose del genere o in pornografia ragazzi cioè la cosa si sta facendo interessante io ho paura credimi ora comunque mi farò aiutare per questo programma ma credimi io ho una certa timore ruffianona anche a me anche che sono ruffiana non è vero io non sono ruffiana per Siri io ho paura di quella live non so cosa succederà qualsera se i mammi chiudono ci chiudono il canale a tutte e due comunque vi stavo dicendo gli ho detto amore dobbiamo passare da Ravenna io vorrei fermarmi in una profumeria dove ho comprato tantissime volte online ma non ci sono mai stata si Frenchy tesoro ciao ti leggo avevi scritto qualcosa prima riscrivilo perché comunque quando scrivono tutti insieme a volte si blocca poi mi parte la chat tutto veloce che si chiama profumeria Brunella che a Ravenna ha due profumerie una in centro che non sono riuscita ad andare a vedere perché dove ha tantissimi brand di nicchia proprio e un'altra no Frenchy non mi dimentico mai di te tesoro che ho toccato cosa è successo ma mi vedete perché Frenchy c'ha l'occhietto che piange cosa succede mi dite se c'è qualcosa in chat che non va non si vede non sono riuscita ad andare perché comunque è in centro col camper cioè non è che io pretendo di arrivare davanti alla profumeria e essere scaricata scaricata davanti però non si può nemmeno parcheggiare nei dintorni mi vedi male indifferita mi vedete male qualcun altro perché se mi vede male qualcun altro sono io se mi vedi male solo tu sei tu ok Frenchy tesoro era un po' che non ti vedevo però sono in ritardo di nuovo è stata Siri prima ogni tanto parte non me la fate nominare che quella torna mamma che paura e ora mi vedete bene ma che barba questa cosa però comunque sono andata nella profumeria quella infatti io ve la segnalo profumeria brunella non quella di Ravenna in centro ma quella di Alfonsine mi pare che si chiama il paese che è quella che ha anche del commerciale però ha anche della nicchia fatto sta che io vado perché io avevo intenzione semplicemente di fare un giro perché avevo voglia di annusare dei profumi di Fragonard Fragonard è un marchio comunque francese di grass ah bene Valeria che ha dei prezzi ottimi e dei profumi altrettanto buoni quindi avevo voglia di sentire un po' di questi profumi che non ho mai possibilità di sentire anche se io ne ho e ne ho avuti diversi e mi sono sempre piaciuti tutti perché meritano molto ho pensato vado lì ne annuso un po' infatti poi cosa ho fatto ho telefonato a questa profumeria non del centro di Ravenna perché ho provato a guardare se riuscivo ma non riuscivo a parcheggiare praticamente se non a tipo due chilometri e sinceramente anche no Monica abbiamo la stessa vestaglia benissimo e niente ho chiamato e mi hanno detto guarda ce l'abbiamo anche qua Fragonard andiamo ok i profumi si dai cacchiamoci sotto ma tutto bene in che senso ecco mi è piaciuto Soleil Grande Soleil a me moltissimo anche Elio Troppe Gingembre l'ho già avuto e anche Soleil normale mi è piaciuto e poi vabbè me ne sono piaciuti diversi comunque vado in questa profumeria appunto per sentire questi Fragonard passo proprio lì davanti che ha diverse vetrine e vedo in vetrina i profumi di Firenze il fiore d'arancia è il tuo preferito non so neanche se l'avevano lì vedo i profumeria i profumi di Firenze quelle spezierie di Palazzo Vecchio vi ricordate che io vi ho fatto vedere un profumo che si chiama la vecchia spezieria e vi ho parlato di questo profumo che è un profumo fantastico super evocativo che vuole evocare le vecchie farmacie barra spezierie drogherie che c'erano insomma agli inizi del novecento quelle che vendevano da comunque le spezie alle caramelle fino ai detersivi quindi ha questo sentore particolarissimo che sia speziato che gourmand che pulito cioè è un profumo che dentro ha di tutto e riesce a essere buonissimo ecco c'era quei profumi lì in vetrina alcuni di essi l'ho scritto scontato costano 42 euro comunque nella loro versione full size quella da 50 ml classica c'è scritto a 14 euro what? entro subito ovviamente me li sarei comprati tutti non ce n'erano no Cristina non gioco a fortnite ci do a mio nipote o Cristiano o Cristina non ho capito Cristina scusa mi chiami come me mi sono venuti i capelli dritti praticamente i capelli dritti non aveva tutte tutte le referenze però ne aveva alcune e io ne ho prese due ne ho prese due e la Francesca cioè la mia amica quella che vive a Parigi il famoso micio nero che non mi caga manco a morire quando faccio le live si e Clai è anche buono l'ho sentito ma non l'ho mai avuto ne ha presi altri due perché alla fine con 28 euro ho portato a casa due profumi di questi di Firenze e vi dico che se voi volete per caso fare questo acquisti cioè siete interessati a questi profumi e siete vicino a Ravenna è la profumeria Brunella di Alfonsine però non so se online perché hanno anche un sito ciao Titti grazie hanno anche un sito ma questo sito non so se sopra c'è questo marchio perché è un marchio che stanno dismettendo quindi non lo terranno più per questo vendono a questo prezzo per cui se voi telefonate mi metto che fanno ordine anche telefonici quindi telefonate dite senta buonasera ho saputo che ci sono in sconto questi profumi per caso avete la tal referenza ecco così potete insomma in tal maniera anche farlo spedire perché comunque da 14 euro anche fatti spedire vi costerebbero 20 euro questi profumi di norma ne costano 42 proprio di listino e vi faccio vedere quello che ho preso io e quello che ha preso la mia amica allora io ho preso due profumi il primo è ambra del Nepal che era l'ultimo quindi di questo non troverete altro che è un profumo buonissimo anche questo veramente veramente squisito sapete che io ho questa fissa per le ambre questo vabbè il pack secondo me è il pack quello un po' vecchio dei profumi di Firenze perché ora non è più così guardate come come sono confezionati infatti ora mi sa che faccio danno non voglio provo a aprirlo dal culetto ho detto uno scenità ecco sì così funziona meglio ma vai via eh sì vai via che ci dobbiamo fare tesoro magari tratto argomenti che non ti interessano probabilmente ecco qua sono comunque allora il pack dentro è identico però il pack fuori è diverso qui abbiamo ambra del Nepal dove praticamente ci dice in questo foglio che adesso non ci sono più questi fogli qua ehm dentro c'è scritto anche in italiano noi andiamo a vedere strappando su tutto con una certa violenza abbiamo coriandolo ambra grigia incenso e muschio di quercia volevo creare una fragranza che ricordasse la spiritualità dell'anima eh del paese da cui viene questa ambra non è stato facile ma dopo molti tentativi credo di essere riuscito ad integrare l'inconfondibile nota aromatica del coriandolo in un equilibrio stabile con la pacata compostezza delle resine d'ambra e dell'incenso il risultato è a dir poco interessante dottor Giovanni di Massimo che è il naso che fa questi profumi questo è il pack vabbè l'avete già visto io adoro da morire cioè io penso che non lo so sia uno dei brain più belli mettete like ragazzi siete 95 con solo 58 like è buonissima vabbè dovete amare l'ambra qui abbiamo un'ambra molto spirituale mistica e particolare proprio come dice si 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 sente l'incenso però molto delicato io lo sento dolce dopo molto dolce diventa un'ambra molto ci siete siamo sempre a siri ci siete ancora ragazze qualcuno scriva ora ci sono ancora stasera parte quella cioè aveva avuto fortuna questa è un'ambra direi molto balsamica io la sento balsamica è particolarissima veramente particolarissima devo piano piano studiare perché questa non è esattamente quella che è l'ambra per cui ho cominciato a amare l'ambra però diciamo che mi piace tanto poi vabbè casca tutto vabbè mi sono diciamo eccuitata per 14 euro vi ripeto so di che profumi si tratta io ho preso muschio bianco 2 si vede che c'era anche un muschio bianco 1 si esatto Adele i gusti cambiano sempre cambiano moltissimo moltissimo qui addirittura abbiamo una specie di guardate un po' questi erano proprio quelli vecchi questi sono proprio i pack vecchi vedete sono rimanenze tipo di fondi di magazzino per questo comunque le ho pagate questa cifra e qui abbiamo questa sorta di coso gigantesco perché comunque è un tipo di brochure dove ci sono tutti i prodotti di spezierie di palazzo vecchio perché comunque fa anche prodotti per la persona no franchi non si vede il link non so se te lo blocca direttamente youtube perché io non lo vedo non so se le altre ragazze lo vedono io sono andata su ma non riesco a vedere tesoro mi dici di che cosa si mi si parlava cioè che cos'era magari sai cosa fai quando finisce la live se vuoi linkare qualcosa puoi linkare quello che vuoi basta che non si non usci l'ità ma non credo lo linki sotto nei commenti perché qui non si riesce a vedere evidentemente si come piace a me si esatto questo deve essere veramente diciamo vintage tra virgolette ed è un muschio bianco un muschio bianco molto naturale però anche questo ora ve lo spruzzo ovunque muschio bianco fresco naturale e vedi che non lo vede nessuno qui insomma diciamo che nei muschi bianchi non c'è molto da dire sta di pulito sta di muschio bianco però è molto molto naturale anche qui ha una nota strana però mi piace tantissimo l'ho sentito in negozio e mi sono subito innamorata profumo molto molto no non non compare vedi che anche le altre ragazze dicono ragazzi spero che mi vediate perché qui continuo a bloccarmi ma sapete perché ho qualche problema con delle parole che dico mi parte subito quello che comincia con l'S e finisce con IRI comunque diceva un muschio bianco un po' verde un po' verde un po' pulito veramente buono veramente buono e particolare mentre la mia amica carissima ha preso questi due cioè il muschio dolce paciuli scusate e il paciuli rosso sempre a 14 euro voglio vedere che pack hanno i suoi tanto per capirci e vedere ora ti spacco su tutto Francesca Franci non hanno questo è vecchio l'altro non lo so questo è vecchio però mi accorgo tipo adesso cioè che no vabbè cioè devo scrivere immediatamente alla profumeria cioè è mezzo vuoto e splash cioè non so se ci siamo capiti cioè l'avete visto in diretta l'ho aperto adesso quindi se ci saranno problemi vedremo Francesca spero tu non veda questa la che ti viene un infarto vediamo l'altro cioè io non li ho aperti lì per lì perché stavamo andando via cioè ah no il cosino è dentro in fondo scusate ma la vecchiaia è quella che è però cioè ce ne manca un bel po' eh non so se mi sono spiegata comunque adesso lo mettiamo via che dopo gli scrivo vabbè che per 14 euro però insomma eh poteva succedere con uno vedi io ci resto male poi perché poteva ehm poteva come si dice succedere con uno dei miei e non con uno di Francesca comunque vabbè comunque vabbè e questo è paciuli rosso speriamo che questo vada meglio perché ragazzi non so cosa dire questo invece è versione pack più nuovo e sarà pieno di sicuro e infatti questa versione pack nuovo è pieno e basta quindi adesso scriverò loro per quanto riguarda per questo pack perché sì ho capito che avranno anche valore tesoro però ce ne manca mezzo cioè un po' mi dispiace non è mio ce ne manca mezzo gli devo scrivere per forza vabbè ragazzi succede poco male risolveremo robe che si risolvono ripadisco io non li ho aperti di per lì perché che buono questo muschio quando poi si asseste è buonissimo sta proprio di pulito sbagliano quasi tutti il tuo nome eh beh vabbè tesoro purtroppo sbagliano il mio pat ma sì io me li do li uso ogni tanto vado ad usarli mi metto li davanti ci gioco come i bambini mi danno felicità Claudio sei scoricato mi porteresti una bottiglietta d'acqua frizzante sì sì c'hanno tutti i pack diversi non si capisce questo sembra più vintage però non lo so adesso vedremo 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 comunque rachele ti chiamano rachele amelia agnese adelia amelia è bello ciao claudia eh frenchy love il link non si riesce a vedere se tu vuoi mettilo sotto che sicuramente nei commenti compare probabilmente nelle chat youtube impedisce i link sì succede ora sono molto raggiata come si dice le parti mio marito arrabbiata per questo profumo che ce ne manca mezzo quindi è inaccettabile seate fare ecco addome spero tutto bene che meraviglia vedi come mi annuso tutta e niente acqua frizzante per no monica per digerie ci deve essere un profumo che non c'è no mi dispiace ragazzi io rischio eh Antonella sai anche io non è mio capito è di una mia amica tesoro mettilo nei commenti french perché io non so è di un'amica lo tengo di sicuro perché non penso che mi facciano fare un reso per una cosa ciao tesoro grazie grazie di essere passata mettilo sotto quando finisco la live non penso che mi facciano fare un reso per un profumo da 14 euro però ce ne manca mezzo veramente cioè io l'ho aperto l'avete visto in live guarda più bello di così dimostrazione queste cose capitano comunque coi fondi di magazzino queste cose qui succedono invece ho trovato carita no mi dispiace tantissimo perché quel profumo io ruttando vedi che funziona l'acqua frizzante lo punto da un sacco di tempo ragazzi lo punto da tanto tempo no ma che peccato cioè ha proprio trasudato quindi mi sta crescendo un brufolo credo gigante o sono sporca bel brufolo che sta l'ho sentito nominare tante volte Feb Delicioso di Dior ma non lo conosco non hai capito questo è un problema decisamente ciao Dani buonasera infatti poi se vedete il profumo questo qua rispetto a questo qua qua l'etichetta si vede che sembra un po' bagnata cioè non l'hai bagnata però lo sembra non lo so però sotto non sembra in realtà è proprio evaporato ciao Chiara un abbraccio anche a te boh che peccato però per il carita questa violetta è proprio bella però anche lei non so più dovranno usarmi grazie Simona sei gentilissima ci provo dai ci provo comunque come vi dicevo se vi interessano questi profumi appunto di Firenze che vi ho fatto vedere volete chiamare la profumeria chiamate perché il rose gold permanent non si no ma non si è mai trovato nei rifornitori perché comunque dovrebbero vendere l'oreal ma i venditori cioè nel senso quella non è una linea professionale quella che uso io il permanent gel non è una linea professionale è la l'oreal che fa anche il colorista l'oreal colorista permanent gel non è una linea professionale quindi non si trova nei negozi non si dovrebbe trovare nei negozi io non capisco cosa nel naso mi sono secondo me graffiata in teoria credo che non si dovrebbe trovare cioè si trovare nei tigotà però qua in Italia no anche perché io non ho mai 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 ma Brunella aveva in sconto anche dei profumi che non mi ricordo più perché non ne avevo mai visto comunque erano profumi dedicati alle città tipo c'era Firenze Venezia e qualcos'altro però sì mi sono dedicata molto a sentire alcuni Fragonard però non ne aveva tanti e poi avevo ormai visto questi a 14 euro ed ero propensa per loro infatti ho fatto bene anche se vi dicevo quella cosa lì del bagaglino mezzo vuoto mi ha fatto rimanere un po' così peccato perché ho pagato tra l'altro con il banco ma te non con la carta di credito quindi se fanno chi no? Tarota di Nichus ah buono ah ma tu vuoi dire se sono colori di tendenza cioè non proprio il marchio quindi non la L'Oreal non il permanent semplicemente il colore rose gold lo so è un colore di tendenza ma più che altro sono anni che il rosa senza gold è un colore in teoria di tendenza cioè sono tantissimi anni che le ragazze si decolorano i capelli e poi si fanno questi rosa no? di vario tipo però permanente non l'avevano mai fatto mai mai cioè tant'è che quando però tipo chinotto rosa a me andando sui profumi non eh no cara però se tu quando sta di rosa per me stavo appunto dicendo Cuba se lo dovessi comprare glielo dici aprilo e dimmi se è intero vabbè che ribadisco cioè siamo veramente a prezzi ridicoli per questi profumi perché costano più del doppio però io sento solo la rosa ma è un problema che ho con molti profumi in alcuni profumi dove c'è la rosa per me per Edomila quella rosa lì la rosa e quindi non lo so cioè ti stavo dicendo Adele che non so perché io non lo trovo da nessuna parte di nessuna marca andando online se cerchi rose gold poi trovi alcuni di quelli in tubetto da miscelare poi con comunque con l'ossigeno però non so poi è stata la prima volta che io muoio di sete eh vedi anche perché guardando online avevo visto un sacco di video di ragazze che si facevano i capelli rosa in maniera permanente però boh non lo so io adesso mi devo fare la ricrescita perché adesso è veramente vergognosa guardate che roba perché ho la frange non si vede però copriamo tutto eh lo so io in molti profumi dove c'è la rosa sento solo la rosa che ti devo dire ma niente adesso sto pensando insistentemente a questo profumo che è a metà quindi non vedo l'ora di potergli scrivere insulti di vario genere eh oh si chiama spezzerie di palazzo vecchio i profumi di firenze patma cerco di fare allora prima lo facevo molto più spesso quando non avevo la frangia quindi la situazione era questa a me si vedeva molto io ho moltissimi capelli bianchi guardate quanti ne ho tantissimi purtroppo lo facevo più spesso adesso che ho la frangia riesco a camuffare perché si vede la crescita ma non si vede qui non ho tanti capelli bianchi io li ho molto qua intorno quindi ehm lo faccio una volta al mese esatto infatti adesso siamo al 20 e più o meno io ehm sono lì per farlo lo farò ma forse domani non lo so quale ciorno dovrei farmi la crescita perché ehm quello copre bene anche la crescita però non perfettamente come vorrei io quindi dovrei fare che mi faccio la crescita di un di un di un tipo di colore poi ci butto sopra quello è un po' un casino dovrei fare un casino dei miei vedremo vedremo che tanto che non lo faccio come di prima l'ha scritto il mio gatto adoro quindi il tuo gatto fammi leggere dice belle e stoll i miei sono bianchi grigi cioè sono insomma nel mio colore però ne ho tantissimi tantissimissimissimissimissimissimissimissimissimi Cosa ridi? Cosa ridete? Cosa ve la ghignazzate? Fermasta nuda io qua Meno male che mi riprendo da qua in su Sì 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 i castani soprattutto I bianchi anche ma così così A me perché io davvero davvero Soprattutto in queste parti Ne ho davvero parecchi ma parecchi parecchi Zenzero fiorito sì l'ho sentito Praticamente è il brand Amerigo Diciamo nuovo Amerigo Però non mi piace Non mi piace molto L'ho sentito ma non Boh mi sa qualcosa già sentito Ma Luca mia mamma e mia suocera rompevano le balle Per che cosa? Ah tu volevi lasciarti grigia Io non riesco Non mi vedo proprio per niente Ci vedo in realtà molte poche persone Che stanno bene col grigio Cioè io grigio bianco ci vedo bene Ma una donna un po' più adulta di come sono io Che c'ho 40 anni Quindi sulla sessantina Cappello corto E cose del genere no? Sono andata a Dani A Tigotai E l'ho sentito Però non mi ha colpito Cioè mi ricorda un po' Un po' meno dolce di Lo zenzero Quello di fior di zenzero Mi sembra che si chiami Comunque quello che sa di biscotto Di Nature's E mi piace quello Quello lì non mi ha convinto Non so Gli altri comunque li conoscevo già Non mi ha convinto Eh non lo so Quello lì Fior di zenzero di Nature's Mi ha ricordato un po' Però meno buono Perché fior di zenzero è più buono Sta di biscottino Uh ma se dici a me grazie Sono cresciuti tantissimo eh Cioè io penso che Dall'ultima volta Che sono stata la parrucchiera Siano cresciuti Almeno tanto Io ce li avevo qua eh L'ultima volta Qua Circa E poi andavano Leggermente più In così Però non tanto eh L'ho fatto fare leggero Perché Però ce li avevo qui Cioè sono cresciuti tantissimo E adesso non so Non so Boh Ho amato quell'impressione Però insomma Su cartine velocemente Dani Non so se farli crescere di nuovo O tagliarli ancora O andare a tagliarli Sono qua che Ad un bivio E speriamo un desiderio L'ho già fatto io I miei desideri sono molto Molto desideri Sto rompendo tutto stasera io C'ho anche una sete atavica Perché oggi ho avuto Che profumo vorreste Chiede a Dele Che facessero linee erboristiche Allora Comincio io Voi scatenatevi Io vorrei che rifacessero Con tutta me stessa Dolce Elisir Che facessero un profumo Che sia qualcosa di simile A Dolce Elisir E che Comunque Non che ci somigli per forza Però qualcosa del genere Ecco Comunque un Profumo liquoroso Dolce Leggermente Con un po' di tabacco I puntini sono svenuti di là E io finalmente vivo Perché questo weekend Se così lo vogliamo chiamare Un giorno che ho fatto via Praticamente Mi hanno torturato Fino alla morte Perché Non mi lasciavano in pace Un secondo Volevano starmi addosso Tutte e due E poi si litigavano Perché volevano Stare su Uno su Uno giù L'altro di qua Oh baba che borse Che borsette Che borsette Oddio Cade tutto Prugna Buona la prugna Anche a me piace la prugna Prugna Tabacco E qualcosa di liquoroso Sarebbe anche quella molto bello Quella profumo Oppure Oppure un profumo Vanigliato Però una cosa Una cosa che ricorda Appunto L'odore Dei confetti Che qualcuno Si scatenasse In una cosa Del genere Vedrei benissimo Un bellissimo Profumo Così Dedicato Che sa proprio Di confetti Con una bellissima Confezione rosa Un po' Tondeggiante Come quella di Rem Però su rosa Completamente opaca Con un bel fiocchettino O ancora più carino Con una Nappina Quelle frange No Adela Ti stiamo tutti Leggendo Ecco Quello sarebbe Un profumo Mi piacerebbe tantissimo Con la scatola Simi Rem Però opaca Come Rem Come Coco Rem Che è uscito Quest'estate Però rosa Un po' Più piccola Quindi un 50 ml Facciamo Un tappo Molto simile Un bel confetto Lo cossi Poi Cioè Vorrei proprio Una confezione Accattivantissima Che ricco Cioè Di questo colore Tondeggiante Quindi Mi hai vista In tutte Parli di me Vero Amarillis Sì Sì Non so Però La confezione Dei Lo Kerber Milano Non è Come dico io Cioè Tondina Non è Cioè Non ha Quella Lone Vintage Che dico io Non ho capito Ma parli di me O di O di O di Adele Cuba No però Sì Cioè Non le faranno Mai Non le faranno Mai Perché comunque Non Seguono Un po' Le mode Che ci sono Nell'alta Profumeria Ecco Seguono Quelle mode Lì E via Rose Di Blanchette O Blanchette Non ho mai capito Perché Dovrebbe essere Un brand italiano Quindi Cioè Io dico Blanchette A me Non tanto A me Rose Di Blanchette Ricorda più Tipo L'odore Dei cosmetici No È una rosa Cosmeticosa No Che sa di cosmetici Di rossetti E di cose così Non lo so Non lo so Tipo le ambre Ecco Sì Un pack del genere Però tipo I colori Dell'ambra di Ella Non mi sono piaciute Quella forma lì Brava Però dovrebbe essere Rosa satinato Così Lo so Che stiamo Proprio Rasentando Il super Cioè Roberto Si staranno Rivoltando Gli occhi Dall'altra parte Sarà andato A prendersi Il muschio Di 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 Cervo Le ghiandole Del gatto Quelli Sai Quelli dei cani Quelli che puzzano Quelli Saranno andato a fare Qualsiasi cosa Pur di Levarsi dalla mente Quest'immagine Orribile Di questo profumo Rosa E Hai risentito Floranilla Ti è piaciuto Io lo amamo Da morire Erbolare Non fa niente Non fa quello Che gli dico Guarda Poverino Sì sì Se sei lì Con tutti i tuoi Puzzoni davanti Che Ogni volta Che io dico Una scatola rosa Tonda Grass Con Opaca Che sa di Confetto Tu vai lì È stupendo Rosa di Blanca Ed è buonissimo Secondo me È il più buono Di tutti Di Di Quella Di quel brand Ghiandole di cervo Putrido Anche un po' morto Così Cioè La ghiandole del cervo Morto da una settimana Preferibilmente Sì ti piacciono So che ti piacciono Anche io scherzo Io sono una cosa Delicata Delicatissima Nelle nostre Chats Sono ancora più Delicata Il cervo Morto Da una settimana No Non sono più Andata Da Ikea Sì sì Deve essere proprio Una cosa Dele Una roba Cioè Super Super doll Super davam E lo chiamerei pure Dolls Io Cioè tipo Un nome così No Niente The library The library Of fragrance Fa anche L'odore di verme Certo che però Madre mia Cioè ma chi è che potrebbe indossare Oggi puzzo di verme Già che le cose puzzano Mi ricordo quando mio marito Pescava Che in Sicilia Che andavamo a comprarli Sono romantica Ma in realtà Cioè non è Sì Però Boh Il muschio sai che non l'ho mai sentito Di Blanchade O Blanchette Ma io non capisco come si chiamano questi Ora gli telefono e glielo chiedo Tu e Francesca Che fate tu e Francesca Sì lo chiamerei Dolls O il muschio di cervia Alex Amore mio Eccolo C'è il mio amore in chat Il muschio di cervia Allora ragazze Adesso vi devo raccontare una cosa a proposito Mi è venuta da ridere Mia madre oggi Secondo me si è dovuta cambiare due volte Perché si è piaciata addosso Nel vero senso della parola Dovete sapere che Dovete sapere Che lei si sente ogni Non ogni giorno Però almeno una volta a settimana Con una cugina Di sua madre Che non c'è più da anni Sua madre C'è mia nonna Questa qui ha 89 anni E' ancora in perfetta salute Tanto è che esce In bicicletta Fa cose così Che cos'è che amerei Ah il sapone Il muschio di Blankade Adesso Farò Ah bene Ti mandano i link di questa live Benvenuto Insomma praticamente Mi telefona stasera Stavo tornando Rideva Rideva Non riusciva anche a respirare Mamma cosa c'è Smetti di senti male Mamma per piacere In pratica Questa cugina di mia madre Arriva alla lettera Che sarebbe questo Non il richiamo La chiamata Per il vaccino Insomma è piuttosto anziana Perché ha 89 anni Quindi il 27 febbraio Questa signora Dovrebbe andare a fare Eh lo so L'ho messo proprio In questa categoria In un video Che uscirà Credo domani I profumi che sono di bambola Ve li ho messi tutti Quasi Quelli che ho Non tutti tutti Però li ho messo Quelli che sono proprio Di bambola Di tutto Secondo me E Quindi insomma Gli è arrivata questa lettera Che il 27 febbraio Dovrebbe vaccinarsi E quindi lei Che comunque Ripeto È completamente in sé Questa signora Anche se ha 89 anni Diceva Ma Gabriella Si chiama Gabriella Mia madre Io non so Secondo me Mi hanno preso in giro Perché Cioè questa lettera Mi dice che il 27 febbraio Io devo andare All'ospedale di Carpi A fare sto vaccino E poi sotto c'è Un altro foglio Con una specie di questionario Che devo compilare Con la casina Sì o no No Da barrare Con una serie di domande Fra cui Sta allattando È incinta O sta cercando Di rimanere incinta Ma io ho 89 anni Ma questi qui A me la cosa Dell'allattando Mi ha fatto morire Io capisco il periodo Sicuramente Non hanno il tempo Per E manco le risorse Per andare a Diciamo Diversificare Le lettere Cioè Probabilmente le mandano Così anche agli uomini No Ovviamente loro barano No Cioè perché Però questa cosa De lo sta allattando Lei che ha 89 anni Mi ha fatto morire Da ridere Ma tu pensa Il servizio sanitario nazionale Poveraccio Che devi inviare Sto richiamo A questa signora Per fare il vaccino Contro questa Questo problema Enorme Che abbiamo C'è questo questionario In cui le chiedono Se sta allattando Cioè non ce la faccio E lei Solo che mi fa Abbiamo Lei Dice sempre mia cugina Però non è sua cugina È la cugina della madre Lei è ingenua E quindi Mi dice Ma Gabriella Ma secondo me Mi prendono in giro Ma c'è scritto Mi chiedono Se sto allattando Oh Jesus Quindi io mi aspetto Che questi Questionari Rimino identici A tutti Anche a un uomo Immaginate Un ottantenne Maschio Che riceve a casa Costretto a fare Magari i figli Glielo fanno Papà Ti compiro il questionario Così dopo Quando andiamo a fare Il vaccino Ce l'hai già fatto Allora Papà sta allattando No Papà è gravido No Papà cerca Una gravidanza Papà c'è No No Ma secondo te C'è scritto Che non fai C'è di non fare Causa Per possibili Problemi futuri Quello è peso Però quella lì Dell'adattamento Cioè Ma mia madre Fa Cristina Fa io non ce la faccio E tutt'oggi Che rido Mi ha chiamato Alle tre Questa signora Hanno parlato Insieme alle tre E poi mia mamma Ha chiamato Alle sei di sera Che ancora rideva Ma rideva Che non riusciva a respirare Per piacere Calma Mi muore così Ridendo Per questo allattamento Improvviso Non lo so So che magari A qualcuno Non mi fa ridere A me ha fatto morire Ma in particolare L'episodio Dell'allattamento Cioè Io non so Quando mi chiameranno Chi chiamano Quelli Con Non lo so Come i bugiardini Delle medicine Sia Effettivamente Vuoi essere giallo Adoro il giallo E va bene Sarai giallo Fintet Fame Fame Io non so Cioè veramente Se qualcun altro Fa ridere A me invece Lei rindeva Per l'incinta Mi ha fatto ridere Per l'allattamento L'allattamento Ma Questo L'ho trovato Alex Dalla profumeria Brunella Di Ravenna Però Quella che c'è A Alfonsine Vendono Vendono anche Telefonicamente Quindi se tu Li chiami E chiedi Che referenze Hanno Secondo me Ce ne sono alcune Che a te piacciono Perché c'è pure Ci sono dei pacciuli Forse Dolce pacciuli Ma in particolare Pacciuli Quello rosso Rosso pacciuli Pacciuli rosso Questo Secondo me Ti piace Costano 14 euro L'uno Però Stai attento Quando Cioè se tu Ne vuoi comprare Dici per telefono Si guarda Me ne invii due Ti faccio il paypal Cose del genere Degli di controllarli Perché io domani Io domani Devo mandargli Un messaggio Chiamarli Perché praticamente Il pacciuli Quello dolce pacciuli È così Cioè E qui dentro Cioè se c'è Odore Però non lo so È mezzo vuoto Comunque Non lo so Chiuse Chiuse Beh un po' però Pare che abbia Trassudato E qua davanti Guardate Comunque Vedremo 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 Rivolgo i miei soldi E quindi Vedremo Adesso non va più dentro Eh sì Vedi che non è pieno Cioè Ma sicuramente Non l'hanno fatto Il proisto Perché questo È veramente Perché secondo me Trasuda un pochetto Vedi Questo è veramente Un fondo di magazzino Perché ancora di quelli Splash Con il Come si dice Il Il cosa da mettere Dopo con il profumo Roma È fortemente evaporato Perché è splash Che te devo dire Domani Mi chiamo Mi mando un messaggio Vediamo Peccato perché Questo è buono È proprio È proprio Un bel pacciuli Questo qua Se a qualcuno Piacciano Questo è bello Proprio È solo Che le XI Le XI Le XI Oggi ho una sete Infatti è evaporato Bruttando in allegria Sono usando veramente Evaporation Dovrebbe esserci il tabacco Dentro questo Pacciuli red Non il pacciuli rosso Non lo so Non lo so Perché il pacciuli Mi piaceva più Il dolce pacciuli Che è l'altro Che ha preso la mia amica Questo è pieno Lo abbiamo controllato prima Anche questo è molto buono Un po' più dolce Io invece ho preso Il muschio bianco E se ho preso L'ambra del Nepal Che però non avevano più Era l'ultima Ma giù Con chi parli Parli con me Se questi qui Sono quelli Che vengono a rompere Le balle Nel live Quando non sanno Cosa fare Non è gente Che mi segue Non è niente Quindi Quanto è che siamo In live 89 86 minuti Ci sarebbero Tutti le balle Vero C'è come sentire Cosa guardava Mio marito Siete scomparsi Ma cosa stai dicendo Sì Purtroppo sì Ma adesso C'ho sta fissa Poi che devo scrivere A questi No Sono una appassionata Di profumi Ecco Quello andrebbe bene Dove è Roberto E dintorni Alex Ha il muschio vero Di cervo Di non so cosa Ciao Giù Addio per sempre Come mi diverto È una passione Sì Una passione Molto grande Molto Guarda lì Il mio tesoro Più giù non vado Perché se no Vi vedete a me Vi vedete Le mie nudità Fatemi vedere come funziona Qua Che bisogna di capire Come devo fare Con ste luci Perché qua è veramente Un gran casino Ma Allora Questa è calda Questa è fredda Questa è freddissima Però Mi piace questo No Alex Sai cosa c'è Quando ci sono le live Su youtube I ragazzini Vanno a vedere Quali sono I canali Che stanno facendo Le live Compaio anch'io E dentro Le live A molestare Così sono dei molestatori Che poi passano E vanno Non tornano neanche più A scrivere Niente nei video Normali Sembrano quelli A tu sì che vale In che senso Freddissima Sì Vero e brutto Cioè Così è freddo Così è freddissimo Ah sì Mi diverto tantissimo Giulia Ciao Grazie Sto bene Sì Qualcuno mi ha chiesto Anche sotto il video Sono un po' Indietro Con i commenti Domani mi ci metto Che sono un po' Di tempo A rispondere A tutti E Mi ha chiesto Dove l'ho presa Io l'ho presa Da risparmio casa Cioè quindi Non so dove si possa Trovare una cosa Del genere Però è il mio amore Il mio amore Il mio amore Ah ma a proposito Sul finire Sul calar Della notte Sì sì Ma neanche Cyberbulletti Perché a troia Stavo facendo Un disastro Ma di quelli veri Stavolta Neanche Così Che carini Elisa Mi piace moltissimo Questa cosa Comunque ragazze Adesso che siamo in live Vi volevo dire Che io ho Una malattia Scrivi ring light Su Amazon Guarda Di stare attenta Al diametro Perché se prendi Quelle tipo 10 cm Ti ritrovi una ring light Così O anche 20 cm Guarda che abbia Un diametro decente E poi guardi Un po' Tutte quelle Che ti puoi comprare No Sono comode Comunque Perché senza Non si può fare Raccontavo Nelle stories Instagram O non so dove Di una mia malattia E fissazione Adesso Attuale Per i profumi Che sono ispirati Alle sirene Quindi Qualsiasi profumo Voi conosciate Che sia ispirato A una sirena Scrivetemelo O qui o nei commenti Sotto Se dopo Sono modenese Nella provincia di Modena Se dopo Comunque La live è già chiusa Perché io ho Una fissazione Alcuni li ho già Altri sto per averli Però Ce ne sono Mille Sì lo so Lo so Lo so Adele Quindi è diventato Mio ufficialmente Questo profumo Di cartusia Che è Ligea la sirena Che è una delle sirene Che ha cercato Di tentare Ulisse Una delle tre sirene Che poi non c'è Uscita E si è suicidata Ah sì Davvero Ma sai Dani Che allora Mi piace anche quello Però è quello Che mi piace Mio di tutti Chiama il shabby chic Gli altri Mi piacero molto di più Il mio preferito Credo che sia Rosso rubino Attualmente Ed è questo qua Ligea la sirena Che è un profumo Appunto di cartusia Che è un brand Di capri Mi pare Proprio comunque Di Napoli Profumeria artistica Artigianale Hanno prezzi Però super mega extra Veramente accessibili Perché parliamo di Un 100 ml Che costa 80 euro Quindi costa di meno Che quelli Della profumeria Artigianale No no C'è il pastoncino Per metterci la fotocamera Nelle ring light Comunque Quando guardi su Amazon Lo vedi Che c'è Ed è un profumo Buonissimo Questo qua Ah è l'unica Che conosci Questo è Un profumo È buono Buono Quello è un profumo Buonissimo Molto particolare Però buonissimo Secondo me No Non è rossettoso Per niente Secondo me È un cipro Uno cipro Cipro Non so come si dica Puoi fare anche tu La sirena Di Ulisse Una sirena L'ho già trovata Eccolo Un bel sireno Ciao Monica Monia Scusa Buonanotte Grazie di essere Passata di qui È un Magrumato Ambrato Direi Vanigliato Che comunque Ha delle somiglianze Con lo Chalimar Viene consigliato Tanto Cioè Nelle iscrizioni Viene Comunque Paragonato Tanto L'influencer Brasile Però vedi Tesoro Io Se devo guardare Dei video Che non capisco Quello che dicono Perché il brasiliano Non conosco l'inglese Non conosco niente Non riesco Quindi Guardo sempre Quelli italiani Diciamo È È Non lo so Una vaniglia Un po' Balsamica Incensata Ambrata Molto calda Non ha niente di marino Quindi Ci sono alcuni profumi Che sono Comunque profumi Che hanno Delle note marine Perché ricordano Quel sentore Appunto Del mare Perché la Serena Vive nel mare Questo in realtà No Questo ha proprio Un odore Dolce Agrumato E poi insomma Delle note Un po' Ah Parla anche italiano Bene Grazie Allora andrò a cercarla Grazie È buonissimo Mi è piaciuto tantissimo Indosso poi Diciamo che Con questa apertura Un pochino balsamica Che ha Perché comunque C'è la lavanda Che si sente molto bene La lavanda Quindi Dà quel sentore Un po' così Un po' Aromatico Al tutto Dopo si scalda Tantissimo Perché secondo me Interviene Non so nemmeno Se ci sia in piramide Dell'ambra Però Si mescola Questa vaniglia Con questo incenso Lavanda e incenso Insieme Con delle note dolci Fanno un Un effetto Proprio particolarissimo Buonissimo Mi è piaciuto tantissimo A me è piaciuto Questo E un altro Che si chiama Teatro Comunque dedicato Al teatro Quello di Napoli Mi è piaciuto Moltissimo Anche quello Ecco Sono i due Che mi sono piaciuti Di più Di Cartusia Che è un brand Che vi ripeto Vi consiglio Di Esplorare Perché ad esempio Il 50 ml Cosa è 60 euro Non è che 60 euro Siano niente Non mi dovete fraintendere Però Quando si parla Di un profumo Di un certo calibro Parliamo comunque Di prezzi Che sono Anche molto Abbordabili Quindi Io ne conosco Diversi profumi Che hanno Questo sentore Però Se voi li conoscete Tutti quelli che conoscete Scrivetemeli Qui nei commenti O sotto Quando finisce la live Perché io sono Sempre alla ricerca Perché amo Proprio tantissimissimissimissimo Questi profumi Tra l'altro Hanno delle storie Bellissime Devi arrivarmi Comunque La prossima settimana Un kit Di Il contatto Di Cartusia Tesoro Cartusia Ligia Profumo Ligea La sirena E poi ti viene fuori Cartusia Di sicuro Perché si chiama Solo lui Così E guardi Quello che ti Come va Con Nico Giulia Qui mi pare Che siano Cioè Tipo tutti amici Vabbè E quindi Insomma Scrivetemelo qua sotto Oramai Ragazzi Siamo giunti Agli sgoccioli Non della Nostra Live Ma della Nostra Live Questa Mi è venuta Così All'ultimo Io adesso vi saluto Prima vado a farmi una bella doccia Mi vado a struccarmi Mi vado a coricare Nel mio letto In my bed Così dormo Perché sono Leggermente Stanchina Fatemi sapere Se vi sentite Mi vedete Vi do la buonanotte A tutti Vi ringrazio Per essere stati qui Mi raccomando Fatemi sapere sotto Se Pavon Pavon Di Fragonard Certo Lo sentirò volentieri Ah ma lo conosco io Ce l'ho anche avuto Sono scema Molto buono Sì Buonanotte Grazie Ecco Vedi 30 euro Sui belgi Alla sirena Sì Alex Ti saluto tutti Sono tutti di là Spiaggiati Uno sopra l'altro Buonanotte a tutti quanti Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Come si chiude Qua la live Così Ciao Ciao Ciao